Io non ho ancora figli, ma almeno ho avuto un'idea che penso interessi tutti. Si ricorda dei voli, comandante? Questi sono gli oggetti che finora sono riuscito a raccogliere. Molto bello. Un orologio Piaget, acqua di Cologne Executive, una forma di parmigiano, perfettamente conservata. Che ne dice, comandante? Bene, bravo. Giradischi a quattro velocità. Frigorifero Ignis, a due porte. Televisore portatile Brio in Vega. Pensi che peccato. Ho trovato un'automobile e non so come trasportarla. C'è da fare un lavoro. Andate con questo giovane. Si, comandante. Maggiore, guardi un po'. Maggiore, guardi un po'. Maggiore, guardi un po' di négone. 한 pi – empathi. Maggiore, guardi un po' di dei dati. Maggiore, guardi un po' di pneu. Maggiore, guardi un po' di electricity. Maggiore, guardi un po' di dei dati. dovuto fare anche ogni parte, ma nel suo riso. Guardi un po'. Maggiore, guardi un po' di sintomo. Guardi un po' di acqua. Maggiore, guardi un po' di甚麼. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Senta Ciro, non sa che cosa ho pensato di nominare la curatore del museo Grazie a tutti Questo è un ricordo di Firenze Lo conserverò con grande cura Grazie a tutti